Nel periodo di emergenza Covid, la Polizia Postale delle Marche segnala un'impennata di crimini informatici, specie quelli legati alla pedopornografia. L'ultimo arresto, effettuato dagli investigatori delle sezioni di Ancona e Pesaro, ha riguardato un 23enne nato a Iesi, ma residente nella provincia di Pesaro-Urbino. A seguito di una segnalazione presentata da un organismo internazionale, è scattata la perquisizione in casa del sospetto. Il giovane deteneva nel suo computer oltre 500 file e video pedopornografici, materiale raccapricciante che ritraeva minori tra i 6-10 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. L'indagine permetteva di accertare anche che l'ultimo download di video e foto pedopornografiche risaliva allo scorso 23 gennaio. Vista l'ingente quantità e qualità del materiale rinvenuto, gli operatori della Polizia Postale Marchigiana hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato ed ora, su disposizione del PM di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La Polizia Postale consiglia ai genitori, soprattutto in questo periodo di semi-lockdown per l'emergenza epidemiologica in corso, di non lasciare mai i propri figli in tenera età soli in un ambiente potenzialmente pericoloso come la rete.